Sono successe tantissime cose, il museo si è erradicato ed è cresciuto. L'impatto del museo non si conta solo sul numero dei biglietti venduti, ma anche sul numero di eventi, attività prodotte. I musei sono delle istituzioni culturali complesse, non solo solamente delle esposizioni. Abbiamo avuto circa 60.000 visitatori e alle nostre attività hanno partecipato altri circa 21.000 persone. Abbiamo fatto attività di tutti i tipi, conferenze, mostre, convention, abbiamo fatto proiezioni di film, tutti legati al filo conduttore della scoperta del Novecento. Il pubblico ideale di riferimento sono i ragazzi che non conoscono la storia del Novecento, non conoscono il Novecento e invece Menende e Museo hanno un racconto, un'esperienza con un linguaggio a loro congeniale. Ma in realtà M9 si rivolge a tanti pubblici diversi.